Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, io sono Sebastia Animali e oggi siamo in compagnia di Eda come vedete ho messo nella gabbietta e oggi andremo a modificare il suo pulcinaio non è questo, scusate i rumori perché c'è molto vento, il pulcinaio non è questo ma non so se vi ricordate che è la scatola e oggi appunto andremo a modificare il pulcinaio aggiungendo questa rete ora vi farò vedere tutti gli attrezzi che servono prima di iniziare questo video volevo salutare Antonio Faraone, ciao Antonio poi iscrivetevi al canale, lasciate un like e ci vediamo nel video, ciao a tutti eccoci ragazzi, allora gli attrezzi appunto per montare questa rete al pulcinaio sono quattro nastri, io ho trovato questi nastri azzurri, poi un cacciavite con la diciamo la mina qua chiamiamola così a taglio e infine una forbice allora questo cacciavite ci servirà per fare dei buchi qua, come vedete che io ho già fatto quindi voi andrete a fare un buco qua ai lati della scatola e ovviamente da questa parte come vedete dalle parti laterali, andrete a fare un buco qui, un buco a destra e una a sinistra eppure da quella parte non so se li vedete poi ci servirà appunto una rete in plastica che io qua ho già tagliato però voi andrete a tagliare tutta questa parte, io ho già tagliato perché ed è iniziato a saltare fuori dalla scatola, ma vi farò vedere pure come salta è iniziato a saltare più di un giorno fa così ho dovuto fare subito questa rete e poi dovete quindi dovete fare questo diciamo quadratino, questo buco perché quando andrete voi, quando voi andrete a mettere la rete qua sopra in questa maniera vedete? rimarrà lo spazio qua appunto per la lampada perché visto che è una lampada molto calda se va a contatto per un bel po' di tempo con la rete si potrebbe sciogliere quindi ho fatto questo buco e poi dopo alla fine andremo a fare un quadrato tutto qua così voi potrete andare ad alzare quando volete diciamo lo sportellino, chiamiamolo così per andare a prendere il pulcino quindi prima di tutto risistemiamo la rete in questa maniera e andremo a prendere un nastretto lo andremo a mettere da qua sopra e infilarlo nel buco ecco ragazzi dovete fare esattamente in questo modo come vedete ho infilato il nastro da qua sopra da questi buchi qua sopra e poi l'ho infilato in questo buco che abbiamo fatto prima con il cacciavite poi fate un nodo e così diciamo la rete si terrà ben attaccata alla scatola questo lo fate per adesso per adesso altre tre volte quindi uno qui e due là dietro e ci vediamo quando l'ho attaccato ecco ragazzi allora ho montato tutti i lacci cioè i lacci i nastri come vedete tengono molto bene infatti il pulcino non riuscirà più a scappare e adesso se voi non ci riuscite bene se volete voi vi andrete a segnare con un pennarello nero un quadrato così in questo modo segnandovi questo quadrato poi con la forbice io adesso lo faccio senza pennarello con la forbice andrete a tagliare in questa maniera io la taglio giusto così scusate se si vede un pochino tutto movimentato poi tagliamo così da questa parte ecco qua continuiamo a tagliare e infine allora tagliamoli qua quindi infine vi verrà una specie di quadrato adesso continuiamo a tagliare tutta questa parte in questa maniera poi ovviamente voi lo fate grande quant'è che ci passa il pulcino e vi verrà questo quadrato che voi potrete aprire in questa maniera e richiudere così il pulcino non riuscirà a scappare adesso vi faccio vedere una prova prendendo Eda e lo andiamo a infilare qua dentro Eda fai piano ed ecco qua scusate se è un pochino sporco ma perché ancora non ho avuto tempo e lo andiamo a infilare qua